e ciao a tutti ragazzi e vedo in questo nuovissimo video oggi siamo qui vi faccio vedere questo nuovo unboxing della fast and furious collection siamo arrivati al numero 8 con la dodge challenger srt 2011 modellino numero 8 per questa collezione lo andiamo ad aprire la plastica come sempre andiamo a vedere per prima cosa il fascicolo fast and furious dodge collezione le auto più spettacolare della saga dodge challenger srt del 2011 andiamo a vedere questo fascicolo la dodge challenger veloce e furiosa qua ci fa vedere varie informazioni sulla macchina dodge challenger srt 2011 la scheda tecnica dell'auto eccola qua ragazzi base informazioni la dodge negli anni 20 e 30 ed ecco qua questo è il fascicolo numero 8 fast and furious sprecato che non ci fa vedere il prossimo numero che riceveremo che riceveremo andiamo ad aprire questo modellino ed ecco qua ragazzi la dodge charger srt 2011 ecco qua vi faccio vedere davanti tutto i dettagli qui è tutto aperto quindi si può vedere anche il dentro i dettagli all'interno vedete come ben fatto si vede anche lo specchietto molto bella quest'auto fast and furious qui abbiamo il posteriore eccola qua ops qui abbiamo il retro il laterale qui sotto abbiamo un qr code official licenze product e comunque ragazzi questo è il modellino della dodge charger srt e niente mettete vi piace commentate iscrivetevi al canale e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti belli ciao a tutti